amati amare se stessi è la vera rivelazione fabio marchesi in questo testo giunto alla sua seconda edizione completamente rivista e aggiornata l'autore considerato un ricercatore scienziato disobbediente perché le sue ricerche escono dagli argini del senso comune rivela con la semplicità che lo caratterizza i risultati di oltre 20 anni di ricerche nel campo del benessere fisico ed emozionale dall'alimentazione ai farmaci e ai cosmetici dalla gestione felice delle proprie credenze e pensieri alle emozioni dal sonno al rapporto con la luce e colori amati rivela le regole pratiche per un'esistenza sana piena e felice